Siamo a Casperia e ci è capitato mentre passeggiavamo per le vie del paese bellissimo la gente sta ancora per le strade l'incontro è una signora molto famosa e popolare perché sono di questa zona di strangozzi proprio di qua ma gli stringozi li fanno un po' dappertutto allora la signora li ha fatti gli stringozi lei sta su youtube c'è un video che ha fatto molti like esclusivamente addirittura li ha mandati fino a new york fino in america oh dalla spagna mi hanno chiamato l'ho trovata stamattina già pronta già pronta con la parannosa sta preparando quindi li ha fatti pure in spagna l'hanno chiamata mi hanno chiamato dalla spagna si vede che mi hanno riconosciuto non lo so mi hanno fatti tanti complimenti ci fa piacere però noi già abbiamo disdetto ristorante stasera stiamo qui dalla signora per gli stringozi fatti con noi lo sappiamo no ma è bravo che gli ero fatti pure io gli stringozi ve lo dico è una pasta con le spuntature ma stasera vi faccio vedere la foto grazie 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 grazie